I comandi provinciali della Guardia di Finanza di Salerno e Napoli hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Salerno nei confronti di due soggetti per il reato di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Le misure giungono al termine di indagini avviate dalle procure della Repubblica di Salerno e Napoli a seguito dei sequestri inizialmente a carico di ignoti eseguiti dal nucleo PEF di Napoli nel mese di giugno del 2020 nel porto di Salerno. In tale occasione sono stati sequestrati stupefacenti per un totale di 17 tonnellate, occultate all'interno di quattro container commerciali provenienti dalla Siria con transito presso il locale Scalo Commerciale e diretti in Medio Oriente. Gli indagati utilizzavano la pratica doganale del tramacco, consistente nel riversare la merce del container di origine all'interno di un altro. La mirata analisi della documentazione doganale ha evidenziato che lo stesso stratagemma è stato adoperato anche in altre transazioni commerciali. Le indagini presentano delle particolari elementi di complessità perché innanzitutto uno dei principali artefici risiede in Svizzera, quindi a titolare indirettamente di una società di trasporti e di logistica e chiaramente muoveva le fila per organizzare queste spedizioni dall'estero. Con tutte quindi le difficoltà che derivano per chi svolge le indagini in Italia e deve ricostruire dei rapporti, delle movimentazioni finanziarie, dei contatti che solo in parte interessano il nostro territorio. Stiamo parlando di un'attività molto molto complessa che ha richiesto tempo, come accennavo in precedenza ha richiesto soprattutto un monitoraggio veramente molto molto allargato per ricostruire tutti i rapporti che emergevano. E' chiaro noi siamo partiti anche dall'analisi dei flussi documentali e bancari, perché è quello che ci ha consentito chiaramente di ricostruire poi la reale destinazione e soprattutto i soggetti che gestivano questa importazione.